Sono Loretta Zanuccoli, presidente e fondatore dell'associazione Pranic Healing e da oltre 16 anni mi occupo della diffusione degli insegnamenti di un maestro orientale il cui nome è Master Chioa Koksui. Sono insegnamenti dedicati all'umanità per promuovere il benessere, la pace interiore, la quiete e l'armonia nella nostra vita quotidiana e nel mondo del lavoro. La nostra associazione diffonde gratuitamente meditazioni che promuovono il riequilibrio energetico, la pace e la quiete interiore. E diffondiamo attraverso seminari, attraverso conferenze, la conoscenza di questa disciplina che viene dall'antica Cina e dalla fusione di insegnamenti antichi orientali. Il nostro lavoro, il nostro umile lavoro è quello di aiutare le persone a conoscere il mondo dell'energia, il mondo dell'energia nel senso di mondo eterico. Lo facciamo insegnando alle persone a percepire l'energia attraverso l'uso delle mani. Questa percezione è possibile a tutti, infatti i bambini sono sempre i più pronti e i più spontanei in questa percezione. È molto facile, molto semplice. A che cosa serve sentire le energie? Beh, esattamente a cosa serve sentire se il tempo è freddo, è umido, è caldo, se l'aria può avere un odore gradevole oppure no, le energie prana o energie vitali nel loro termine più moderno sono quelle importanti nella nostra vita per sostenere la vita fisica, la vita eterica, la vita emotiva. Quindi è fondamentale in questo percorso riuscire a percepire se c'è una quantità sufficiente di prana, se ce n'è troppo, oppure se la quantità è sufficiente e corretta per vivere. Con il tempo, con l'esperienza si può anche definire la qualità energetica, quindi diamo per scontato che ci sono luoghi che hanno una qualità adeguata, idonea ad una vita salutare perfetta, oppure ci sono ambienti con una qualità energetica diciamo un pochino meno positiva, può esserci dello stress in un ambiente, quindi arriviamo con la meditazione, la meditazione che viene diffusa gratuitamente. La meditazione può aiutare per esempio a gestire lo stress, addirittura anche a eliminare la presenza di energie dello stress in un ambiente. Facciamo un sacco di altre cose, questa tecnica oltre ad insegnare a percepire l'energia insegna anche come individuare all'interno dell'aura, che è la struttura energetica che compenetra il corpo umano, se c'è sufficiente presenza di energia vitale oppure no. E' importante che ci sia un livello di prana e di energia vitale sufficiente perché questo consente alle persone di avere non solo la sensazione di essere forti e sani ma anche di esserlo veramente. Il nostro obiettivo sarebbe quello di promuovere la prevenzione in campo energetico, è sempre meglio dare un'educazione prima che i danni intervengano e la conoscenza del mondo energetico ci consente anche di capire per esempio negli alimenti se c'è un contenuto energetico adeguato a quell'organismo. Questo naturalmente non riguarda il contenuto chimico, mi raccomando è un contenuto di energia, di prana. Alle volte i cibi vengono coltivati molto bene, altre volte pur essendo stati coltivati molto bene vengono stoccati in ambiente in cui l'energia vitale cade, appassisce, si invecchia e quando arrivano sulla nostra tavola sono praticamente solamente cartone direi, senza offendere nessuno. E' importante riuscire a capire quando il cibo non ha sufficiente contenuto di energia vitale e poi essere in grado anche di reintegrarlo. Questa è un'altra cosa che noi siamo in grado di aiutare le persone a compiere da soli, cioè quando non c'è sufficiente energia vitale in un ambiente, in una struttura eterica o nel cibo come dicevo poco prima, essere in grado di trasferire energia vitale che può essere catturata dall'ambiente in cui viviamo e trasferita nell'elenco che ho appena fatto. 16 anni fa in effetti era un argomento molto particolare, erano interessate molto le persone che pensavano che fosse un aspetto religioso della nostra vita ma non c'entra assolutamente niente oppure pensavano che fosse un ambito relegato all'ambito superstizioso. In realtà in questi 16 anni con il nostro maestro abbiamo avvicinato e collaboriamo con il mondo scientifico in tutto il mondo pensando che negli Stati Uniti questa disciplina è inserita in alcuni ospedali di alcuni stati, in India ci sono cliniche di prani healing e il prani healing in moltissimi stati nel mondo è inserito nelle scuole sotto forma di super brain yoga che è una delle discipline che appartengono alla nostra disciplina del prani healing e addirittura aiutano a migliorare i rapporti con i ragazzi che soffrono di una patologia o di una sofferenza che è molto diffusa purtroppo fra i ragazzi ed è il deficit di apprendimento da iperagitazione, da iperattività. Su questo caso in particolare c'è stato il 100% del risultato semplicemente praticando il super brain yoga, questa cosa è documentata scientificamente, il lavoro di ricerca è stato fatto anche dal dottor Joy Jones che è un medico ricercatore americano molto famoso e in Italia c'è stata anche una tesi sugli aspetti clinici del super brain yoga fatta all'Università di Bologna nella facoltà di psicologia.